Buonasera a tutti, Luis, come stai? Bene, bene, comandante, Luis, attenti! Luis, riposo, riposo, attenti! Luca, riposo, attenti! La mia storia, easier this! prosecco, canarino? Buonasera, buonasera! Italia La Ilda dove è? La Ilda dove è? La Ilda La Ilda Luis Attenti Riposo Italia 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 Uno Facciamo una foto Un'altra foto Italia Uno C'è ancora C'è ancora C'è ancora C'è ancora C'è ancora C'è ancora Salute Luis, prendiamo No, questa è così Salute Cinci Eh? Cinci Cinci Salute C'è ancora C'è ancora Cit dietro punto quando dico dietro punto devi girare dietro punto avanti allo la parte così l'italia saluta saluta ciao di ciao di ciao saluta ciao con grazie con grazie con prego saluta ciao ciao